Musica Presentata nella sede di Confcommercio Pesare Urbino dal direttore Amerigo Barotti e dal presidente del consiglio di amministrazione della pagina CISPA, Sauro Pellerucci, la convenzione con la società Pagine C che consentirà a tutti gli associati di ottenere prezzi promozionali per tutti i servizi promo pubblicitari del gruppo. Un servizio, l'ennesimo, per tutti gli associati, le aziende di commercio, turismo e artigianato della provincia di Pesare Urbino che potranno promuovere la propria attività in maniera tradizionale ma anche innovativa a prezzi scontati anche del 50% rispetto a tutti gli altri. In un'epoca di difficoltà per i consumi, difficoltà anche per il movimento turistico e di una sempre maggiore globalizzazione e concorrenza tra sistemi commerciali e turistici, la comunicazione, l'informazione, la pubblicità e la promozione sono elementi indispensabili per le imprese. L'accordo con Pagine C prevede per gli associati a Confcommercio tutta una serie di servizi tradizionali ed innovativi legati alla comunicazione e alla promozione della propria attività o anche di particolari segmenti della propria attività. Cerco di farmi capire. Ad esempio, sul web è possibile anche promuovere attraverso un sito di e-commerce che non fa commercializzazione online, in realtà promuove la commercializzazione anche di scontistiche particolari o di attività che il titolare dell'impresa ritiene di dover comunicare. Quindi l'accordo va in questa direzione di potenziare, moltiplicare le occasioni di promozione, di pubblicità di un'attività a prezzi molto contenuti perché l'accordo prevede per i nostri associati una scontistica che rasenta o va oltre il 50% delle tariffe normali che Pagine C applica sia per lo strumento cartaceo, diciamo gli elenchi telefonici per intenderci, o per i servizi più innovativi che sono i web, i social network, la fan page su Facebook ed altro ancora. Come rispondono le imprese, i commercianti a queste proposte? Noi abbiamo lanciato da pochi giorni nel nostro sito l'accordo fatto con Pagine C. Già da lunedì invieremo a tutte le imprese tramite CRM la notizia della convenzione e anche quali sono gli strumenti che abbiamo previsto. Dopodiché partirà da parte sia dei nostri dipendenti, dei nostri 16 uffici sul territorio, sia da parte dei consulenti commerciali di Pagine C, la tipica attività di contatto, di comunicazione diretta. Noi pensiamo di poter fare un buon lavoro perché va, con questa scontistica che abbiamo ottenuto, va nella direzione di aiutare le imprese a navigare in un momento di particolare difficoltà economica. Si va dai classici, ma comunque mai passati di moda, elenchi telefonici Pagine C a servizi innovativi come portali web, e-commerce, fan page di Facebook e persino servizi Google. Il presidente di Pagine C, Pellerucci, ha brevemente presentato l'azienda, società operativa dalla fine del 1996 nel settore dell'editoria pubblicitaria multimediale, il cui core business è rappresentato dalla produzione di elenchi telefonici cartacei, 120.000 a quelli distribuiti nella sola provincia di Pesaro Urbino, di quelli online e della raccolta pubblicitaria in ambito locale. Per tutti gli associati alla ConfCommercio, noi abbiamo pensato insieme all'associazione di costruire dei ticket e dei pacchetti che potessero consentire all'azienda di comunicare con tutti i media che noi abbiamo a disposizione, quindi dai più tradizionali, il nostro ormai famoso elenco sì, a quelli più innovativi che riguardano pubblicazioni sul web di nostra produzione o di altri editori. Facendo questo siamo certi di poter proporre a un insieme di aziende il miglior investimento che possa consentire di comunicare sul mercato in maniera diversificata, in maniera innovativa, nuova, economica e di piena soddisfazione da parte di tutti. Con quali vantaggi e quali sono i pacchetti che vi caratterizzano? Sicuramente il pacchetto che più ci interessa promuovere è quello che possa avere una copertura piuttosto ampia che vada dall'elenco cartascio al social network per eccellenza, Facebook ovviamente, al posizionamento sui motori di ricerca, realizzazione di siti e internet responsi per realtà che possa quindi consentire anche di poter parlare con le aziende e fare in qualche modo tramite i nostri consulenti anche un intervento formativo sul territorio. Oggi sappiamo quanto sia importante per gli operatori economici poter investire il meno che sia possibile per ottenere la massima innovazione. Oggi questo è un periodo decisamente impegnativo in questo e noi insieme alla Commercio vogliamo portare gli associati fino in fondo su questa strada. Questo per le aziende, per il privato? Che tipo di servizio prevedete? Diciamo che ci interessa promuovere i servizi dei nostri clienti, quindi degli associati, che tramite le nostre piattaforme possono effettuare delle offerte che siano poi vantaggiose e ovviamente per il consumatore finale, quindi per il privato. Mi viene in mente il SIEPI, che è una nostra piattaforma tramite la quale poter promuovere degli sconti che permette quindi ai nostri associati, ai nostri clienti di poter fare degli sconti e al consumatore finale ovviamente di poterne fruire. Con più di 8 milioni di copie distribuite sul territorio italiano che raggiungono annualmente circa 25 milioni di potenziali consultatori, oltre 400 agenti inseriti nella rete vendita, 70 sedi locali e circa 55 mila clienti inserzionisti, Pagine SIE rappresenta il secondo operatore in Italia nel settore della directories telefoniche. Da qui la volontà di avere un canale privilegiato, grazie a Confcommercio, anche nella provincia di Pesaro-Urbino. Ovviamente oggi, come dicevo, sicuramente l'aspetto dell'innovazione in concomitanza con mezzi economici limitati di così lunga durata ovviamente spinge tutti a ottimizzare gli investimenti. Forse è un periodo della storia che comunque non vi è nel mondo, perlomeno occidentale e europeo, nella storia è un altro esempio simile in realtà. Devo dire che in questo territorio troviamo una certa predisposizione all'internazionalizzazione ovviamente, sia dal punto di vista turistico ma soprattutto dal punto di vista poi manifatturiero e questo facilita alcuni degli attori che sono presenti sul mercato. Questo però non deve, diciamo così, far pensare che non vi siano invece delle difficoltà e quindi delle opportunità, perché invece in realtà c'è anche un insieme di aziende, di piccole e medie imprese che invece ancora sono abbastanza, diciamo, pronte a poter migliorare da questo punto di vista. Ecco, quindi in realtà i nostri servizi servono anche e questo è il nostro obiettivo comune alla Confcommercio ovviamente di poter rendere questi attori più pronti e mercati che dobbiamo poi affrontare nei prossimi anni. Ovviamente questo è un obiettivo che si raggiunge con la formazione per la quale anche la Confcommercio Soco è molto attiva ovviamente sul territorio. Noi tramite i nostri consulenti abbiamo il vantaggio di poter andare a parlare alle aziende a casa loro, quindi nei loro uffici e poterci poi confrontare su quei temi che possono essere, che possono fare la differenza per il futuro. Grazie a tutti.